Ciac! Azione! Ritorna ai reality shop di Bricofer! Iscriviti in coppia entro il 4 maggio su bricofer.it nella sezione reality shop casting Inviaci una foto a tema bricolage Potrai essere selezionato e partecipare a reality shop Bricofer Solo per coppie vincenti Tanta adrenalina, lotta contro il tempo e creatività Ti renderanno protagonista del video che ti farà vincere una fantastica auto Per info, bricofer.it Bricofer, tra il dire e il fare